Ok, andiamo di là 4 5 7 8 8 9 10 10 10 11 12 13 13 14 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 20 20 20 21 22 23 24 25 25 25 25 25 27 28 29 30 30 30 30 30 60 32 Ok Ok Ok